buongiorno domenica 27 agosto 2023 oggi andiamo a fare una via ferrata andiamo a visitare il bivacco bafile siamo scesi dalla funivia cominciamo il nostro cammino verso l'inizio della ferrata che ci conduce al bivacco bafile rifugio bafile è la metà di oggi quella è la vita occidentale quella è la vita orientale rifugio bafile fa tutta la vita orientale quella è molto ampia che salitona siamo arrivati sulla sella di monte aguila allora qui c'è un bivio lì a destra si sale verso monte aquila qui a sinistra verso la nostra meta piccola pausa intanto vi faccio vedere il panorama questo è il sassone eccoci qua sotto al sassone dopo questa piccola pausa sotto al sassone adesso lo aggiriamo e seguitiamo qui c'è il sassone dalla parte di sopra 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 Siamo a metà strada per la ferrata del Rifugio Bafine, ma ci sono troppe persone e quindi abbiamo deciso di tornare indietro. Troppa gente, sono due ore che stiamo sotto ad aspettare la gente che scende, impossibile. Di domenica non si può, dobbiamo tornare in un giorno in cui non è domenica, magari mezza settimana. Alla prossima Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sembra che stai in tiro, capito? Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sembra che stai in tiro, capito? Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sembra che stai in tiro, capito? Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sembra che stai in tiro, capito? Sganciati, sganciati. Non lo so, vedi? Sembra che stai in tiro, capito? Sembra che stai in tiro, capito? di andare verso il rifugio duca degli Abruzzi. E io lo so. Rifugio duca degli Abruzzi. Osservatorio climatico, 2400 metri. Piccola pausa al duca degli Abruzzi. una birretta, una coca-cola e ci accingiamo a riscendere. Riscendiamo? Sì, andiamo di sì. Che bello! Questo è il bivio. Questa mattina, per fare l'anello, siamo stati di là. E adesso siamo scesi di qua. Allora, discussione di oggi. Sicoli frute qui. Giornata bellissima. Spero che con questo vento si senta quello che sto dicendo. Comunque io vi sento, vi do appuntamento per lo spaventare. Ciao. Ciao. Ciao.